Ciao a tutti ragazzi, bentornati a un altro video della BC del Football. Oggi parliamo del division round dei playoff e di quali squadre sono passate. C'erano otto squadre, le migliori otto della Lega rimaste e adesso ne sono rimaste quattro. Quindi facciamo un ordine inverso delle partite, della partita più emozionante che è stata l'ultima del fine settimana e poi andiamo indietro in ordine cronologico. Quindi i Buccaneers hanno battuto i Saints in casa a New Orleans nel Superdome 30 a 20 per l'ultima partita della carriera di Drew Brees. Era la sua ultima partita in casa né più né meno perché i Packers hanno vinto quindi sono loro in casa settimana prossima e è stata anche l'ultima partita che ha giocato in generale con i Saints, con qualunque squadra. È stata giocata contro Brady e è stata persa. Se prima di iniziare la partita vi invito ad andare a vedere il video uscito del dopo partita quando Brees era sul campo con la sua famiglia e è arrivato Brady. È un momento piuttosto commovente ma in generale è stato pesante vedere Drew Brees per l'ultima volta sul campo. Comunque, allora, non è stata la migliore partita di Brees in alcun modo e diciamo che non è stato usato tantissimo da Sean Payton comunque perché da quando è tornato, dopo l'infortunio, non ha più giocato alla sua altezza e diciamo che se Brees fosse stato in partita come era all'inizio dell'anno allora le cose sarebbero state diverse. Però Brees comunque ha un'età e a quell'età riprendersi da infortuni pesanti come quello che ha subito lui non è facile. Quindi Sean Payton ha deciso di utilizzarlo, sì, ma in parte non ha lanciato poi così tanto. Hanno provato a usare la corsa come fanno di solito, comunque Camara non è lo stesso arrivato alle 100 yard e la difesa invece dei Saints ha giocato molto bene. 30-20 è un punteggio che forse non fa capire quanto difensiva sia stata la partita. Sono due squadre, i Saints e i Buccaneers, con degli ottimi attacchi però comunque sono state entrambe le difese che hanno dominato il gioco. Entrame le difese hanno fatto davvero molto bene. Stiamo parlando di giocatori che magari non sono sempre in partita che in questa partita hanno deciso invece di fare qualcosa. Mi viene in mente Devin White, un linebacker dei Buccaneers che spesso fa degli errori ma che invece in questa partita era assolutamente ovunque. In generale la difesa dei Buccaneers ha coperto davvero molto bene. Pensiamo per esempio a Michael Thomas che è stato il target di quattro passaggi e non ne ha preso neanche uno. Michael Thomas è un ottimo giocatore però è stato coperto bene e Zalazzo anche lui da quando si è fatto male in questa stagione non è stato molto esplosivo, non ha aiutato bene. Zalazzo hanno perso Harris, i Saints che secondo me è stata una brutta perdita perché magari non è utilizzato tantissimo ma è in grado di fare quello che deve fare quando serve. Anche la difesa di Saints ha fatto le stesse cose per l'attacco di Buccaneers comunque Mike Evans ha avuto la possibilità di fare molto poco è stato molto coperto, lo stesso per Godwin quindi i target chiave sono stati coperti molto bene Antonio Brown si è fatto male e è fuori, è uscito quindi entrambi gli attacchi hanno avuto dei problemi. Alla fine c'è da dire che Brady ha fatto una partita migliore di quella dei Saints è inutile. Il gioco di corsa ha funzionato più o meno per entrambe le squadre però quando si arrivava quindi al punto di doversi fidare del proprio quarterback Breeze non era in partita e Brady sì. Brady non ha fatto comunque la migliore partita della stagione decisamente neanche lontanamente la migliore partita della sua vita però ed è anche messo un po' sotto pressione dalla defensive line dei Saints che comunque è molto forte però comunque è riuscito a portare la partita a casa quindi ottimo per Brady continua al suo primo NFC Championship ho letto una statistica che ne ha fatti 14 in tutta la sua carriera questo credo che sia il quindicesimo e quindi vedremo giocherà in casa dei Packers a Lambeau Field Lambeau Field è di sicuro un grande asset dei Packers però non ci dimentichiamo che Brady ha giocato per tutti questi anni al Gillette Stadium quindi anche Brady conosce il vento, la neve e cose del genere sono magari i suoi compagni di squadra che non la conoscono poi così bene ultima cosa ho visto oggi un post su Instagram Bruce Arians ha detto che praticamente ha ammesso che è Brady che comanda la squadra cioè è Brady che si occupa anche del coaching ha detto una cosa tipo che quando hai Tom Brady in squadra non devi neanche fare troppo come coach a volte lui semplicemente si siede e guarda Tom Brady che fa il coach bene quindi a questo punto se è così bravo spero che una volta finito di giocare deciderà di andare direttamente come allenatore e non fare come Bruce per esempio che va come analista in televisione preferisco l'idea di tenere sempre Brady all'interno della National Football League all'interno della partita comunque ultima cosa gli eroi dei Saints sono stati davvero tanti ci sono stati 4 turnover ancora qui David White si fa sentire per i Buccaneers con un intercetto e un forced fumble su Cook se mi ricordo bene dei Saints quindi partita superiore dei Bucs sarà tosta settimana prossima con i Packers bellissima partita prossima partita torniamo continuiamo con l'ordine inverso i Browns hanno perso con i Chiefs 17 a 22 prima di partire la partita notizia importante ma Holmes si è fatto male abbiamo visto e è dovuto entrare Chad Hennie però sembra che non abbia una commozione cerebrale quindi dovrebbe tornare settimana prossima per giocare contro i Bills quindi per quello fan dei Chiefs non vi allarmate allora la partita è stata vicina però alla metà i Browns erano decisamente sotto quello che li ha aiutati è il fatto che nella seconda metà i Chiefs non abbiano segnato di punti se non un field goal se non mi sbaglio quindi eravamo forse 19 a 3 all'intervallo quindi i Browns hanno fatto una buona rimonta che sarebbe stata anche maggiore se non ci fosse stato un fumble nel linezone di Higgins che è stato dato ai che è stato dato ai Chiefs è stato dato ai Chiefs perché la regola dice così però non è ben chiaro perché forse lì c'era un una penalità che non è stata data di helmet to helmet poteva esserci come poteva non esserci secondo me c'era però è vero che quando sei così nell'azione ti lanci era molto difficile anche per gli arbitri secondo me e per quanto riguarda la regola del fumble nel linezone la regola è così non sarà giusta però le regole sono quelle e vanno seguite che bisogna che bisogna cambiarle in futuro è un'altra cosa ora seconda controversia diciamo dopo l'elmet to helmet è il fatto che a fine partita con 5 minuti dalla fine partita Stefanski a un quarto e nove ha deciso di fare un punt ha deciso di fare un punt perché evidentemente contava di ricevere la palla e voleva avere la possibilità di fare un touchdown senza lasciare punti ai Chiefs se avesse lasciato se avesse provato quel quarto e nove e avesse fallito i Chiefs avrebbero avuto un'ottima posizione in campo e quindi ci sono di rischiare sfortunatamente Andy Reid è un coach eccezionale e ha gestito benissimo l'orologio alla fine i Browns non hanno più avuto la palla quindi questo è stato un rischio di Stefanski o meglio un rischio che non si è preso e la cosa non è andata bene però sono tutte cose da cui si può imparare io dico che i Browns hanno combattuto bene però i Chiefs erano una squadra superiore e meritavano di vincere meritavano di arrivare al championship ma anche pensando alle squadre che vanno al championship i Browns con questa difesa non si meritavano di andare la difesa di Browns ha lasciato tantissimo spazio ai Chiefs sia in corsa sia come passaggio invece la difesa di Chiefs che comunque non è ottima ha provato a diciamo fermare bene Chubby Hunt e in un certo senso c'è riuscita non ha fatto un lavoro egregio però comunque in alcune situazioni chiave è riuscita a fermarli questa difesa onestamente la vedo un pochino in difficoltà la settimana prossima contro i Bills comunque per quanto riguarda i Browns ha fatto il minimo indispensabile per quello che seguiva hanno fatto anche una buona quantità di pressione a Baker che non è abituato a ricevere pressione con l'ottimo offensive line che abbiamo comunque Baker secondo me ha fatto una partita solida abbastanza tranquilla però i Browns hanno a parte grandissime lacune in difesa hanno avuto anche diversi problemi in attacco comunque i ricevitori sono stati coperti bene Landry ha fatto poco e Landry ha fatto poco perché era coperto ed era coperto bene abbiamo visto parti più importanti fatte da Anjoku da Higgins anche Hooper un tight end ottimo non ha fatto non ha fatto bene è stato coperto troppo bene quindi la difesa di Chiefs è entrata in campo quando serviva questo va detto che i Chiefs comunque sono una squadra molto offensiva ma in questo momento la difesa ha fatto quello che la difesa doveva fare comunque 17-22 entrambe le difese hanno fatto relativamente bene immagino basandoci sui punti concessi a me non è piaciuta per niente la difesa di Browns però l'ultima cosa è che ci sono state un po' di lamentene per il fatto che nonostante Mahomes sia fatto male quindi con un backup quarterback che non giocava da anni e anni dal 2014 credo nonostante avesse un backup quarterback in campo comunque Andy Reid ha mantenuto la sua filosofia del siamo una squadra che prima passa e poi pensa di correre comunque i Chiefs hanno dei buoni running back potevano usarli e comunque Andy Reid ha deciso di provare anche con Andy a tirare la palla e a volte ha funzionato a volte no zero touchdown un intercetto però Andy comunque secondo me ha giocato bene ma perché i Chiefs sono una squadra forte a priori senza contare il quarterback che ha dietro ovviamente il quarterback è importante però sono una squadra che riesce a ottenere primi down e riesce a portare la squadra in fondo al campo con anche un quarterback meno di talento rispetto a Mahomes cioè secondo me i Chiefs non sono così quarterback dipendenti come altre squadre ovviamente cioè con un quarterback con un QB2 con un quarterback non titolare la squadra fa fatica ma questo è ovvio però diciamo che secondo me se avessero un quarterback titolare che non è Mahomes comunque riuscirebbero ad arrivare a questi risultati comunque i Chiefs hanno giocato bene Mahomes ci sarà la settimana prossima per giocare contro i Bills quindi sarà una partita sicuramente molto interessante per noi abbiamo adesso inizio un offseason molto costruttiva spero spero che prenderemo un buon linebacker che costruiremo un po' sul secondario e torneremo l'anno prossimo forti come quest'anno spero con qualche buco in meno perché comunque arrivare al Divisional è un ottimo risultato non dico che l'anno prossimo dovremo arrivare al Super Bowl però mi piacerebbe ritornare dove siamo arrivati questa volta ora andiamo avanti la prossima partita è Ravens Bills con i Ravens che hanno perso 3 a 17 come partita questa è stata proprio strana allora entrambi gli attacchi hanno fatto male questo perché partiamo dai Ravens i Ravens hanno come sempre uno stile che guarda per primo alla corsa e la corsa non è che sia andata male hanno usato diversi uomini tutti rimasti sulle 40 yard e sulle 30 yard quindi nel totale la corsa è stata decente come quantità di yard per una squadra normale per i Ravens non è andata poi così bene questo perché la difesa dei Bills è stata buona in questa partita è riuscita a fermare la corsa quindi Edwards Dobbins sono stati fermati anche Lamar è stato fermato hanno obbligato Lamar a basarsi di più sul passaggio e le cose non sono andate così bene anche senza contare quell'intercetto nella red zone che è diventato touchdown dei Bills Lamar tra l'altro ha subito una commozione cerebrale quindi è uscito non sembra niente di troppo grave si dovrebbe riprendere tranquillamente un'ultima cosa dei Ravens che dobbiamo dire prima di tutto è che devono mettere a posto quel center perché comunque i Ravens sono una squadra secondo me abbastanza completa parlando di offseason il center va cambiato perché c'erano degli snap orrendi in questa partita e poi magari prendere un buon primo wide receiver sposto questo di voler cambiare Lamar come quarterback che lancia un pochino di più perché Marquise Brown Hollywood è stato usato per un'ottantina e un'ottantina di yard ricevute però è stato il primo wide receiver di tanto e secondo me non ha il talento per essere un primo wide receiver ma è un perfetto secondo wide receiver e Hollywood si è lamentato dopo la partita dicendo che è vero che i Ravens hanno un ottimo gioco di corsa però che la squadra non si deve basare sullo squello ma che devono basarsi anche di più sul lancio io non so con Lamar come quarterback quanto la squadra si può basare sul lancio però la mia idea è sempre stata quella di tenere Lamar come quarterback running back che quindi può fare entrambe le cose di non tenerlo come quarterback fisso comunque i Bills perché i Bills hanno vinto 17 a 3 posto che la difesa ha fermato così bene i Ravens perché l'attacco ha fatto molta fatica la difesa dei Ravens è stata molto buona però è vero che la corsa dei Bills fa schifo non è stato un merito della difesa dei Ravens ma è stata colpa della difesa dei Bills che non riesce a fare nulla quindi cosa importante da tenere in considerazione per l'off season secondo abbiamo un attacco che è basato su troppo su pochissimi giocatori l'attacco dei Bills è basato su Allen che è ovviamente il quarterback su John Brown e su Stefan Diggs e è vero che la connessione tra questi tre uomini è perfetta e che giocano davvero molto in sincrono molto in ritmo e che funzionano molto bene però capite è molto facile per una buona difesa fermare un paio di giocatori e tenere completamente sotto scacco la squadra avversaria io vorrei evitare che questo sia il caso dei Bills perché mi potete dire che la difesa dei Chiefs la settimana prossima non ha la capacità per fermare Stefan Diggs ma al Super Bowl la difesa dei Buccaneers per come ha giocato o la difesa dei Packers potrebbe avere questa possibilità quindi da considerare nel complesso la partita è stata sì sbilanciata dal punto di vista dei Bills perché i Ravens erano davvero molto in difficoltà però i Bills hanno segnato come attacco dieci punti perché sette punti sono stati segnati per via dell'intercetto di Lamar che è stata colpa di Lamar perché l'ha lanciata proprio in mano a Johnson che poi è stato bravo e l'ha riportato per un touchdown comunque l'attacco dei Bills io non so quanto avanti può andare giocando in questo modo è stata una partita che ha lasciato molto a desiderare a me i Bills non sono piaciuti e ovviamente non mi sono piaciuti neanche i Ravens per fare tre punti vuol dire che hanno hanno fatto diversi errori bisogna per vincere la stima la prossima bisogna che i Bills cambino un po' mentalità secondo me che corregano qualcosa e la trovo difficile che i Bills possano arrivare al Super Bowl così ultima partita i Rams hanno perso con i Packers 18 a 32 questa partita è stata più interessante perché Rams Packers è iniziata con un punteggio vicino però guardando come i Packers stavano giocando non ti viene da dire ah i Rams hanno una possibilità perché i Packers hanno tenuto la palla un sacco di tempo hanno la monomossa benissimo hanno avuto il doppio delle yard dei Rams in generale l'attacco dei Packers ha dominato la difesa dei Rams la prima difesa in tutta la lega è stata dominata da Aaron Rodgers dalla corsa dei Packers abbiamo che Aaron Jones ha fatto molto bene ma anche che Williams ha fatto bene e che poi è vero che General Adams sia un ottimo cornerback ha coperto bene davanti Adams a parte in quel touchdown che però è stato un errore di tutta la difesa comunque Aaron Rodgers è stato in grado di tirare a una grande varietà di receiver non solo Adams ma anche Tonian anche Lazar e poi lui stesso come come quarterback è stato abbastanza è stato lui è sempre un quarterback molto agile molto mobile ha fatto due touchdown lanciati uno in corsa quindi l'attacco di Packers ha giocato davvero molto bene è stato tutto molto coperto e tra l'altro Aaron Rodgers ha ricevuto anche non tanta pressione da una defensive line dei Rams che è molto forte questo perché Aaron Donald che è un pezzo così fondamentale della difesa dei Rams era e non era sano cioè si vedeva che provava dolore a giocare alla fine ha anche pianto diciamo però non credo che fosse commosso diciamo che secondo me stava provando davvero molto dolore poi l'attacco di Aaron secondo me non ha giocato male diciamo che Goff ha fatto una buona partita però non si sono fidati molto di Goff hanno provato ad andare molto più sulla corsa e diciamo che K-Makers non è in grado di fare tutto comunque è stato molto fermato dalla difesa molto è stato fermato abbastanza dalla difesa dei Packers cioè non è riuscito a correre tanto abbastanza da fare tutti i punti che servivano comunque avendo Harry magari nell'attacco di Rams sarebbe stata un'altra cosa ma usando praticamente solo K-Makers non sono riusciti ad andare molto avanti Goff ha fatto una partita solida però era troppo evidente il modo in cui giocavano che Sean McVeigh non si fidasse tra l'altro mancava Cooper Cup in campo e diciamo che come connessione loro come ritmo vanno molto insieme dopo la partita Sean McVeigh è stato chiesto se Goff era il loro quarterback del futuro e lui ha risposto che Goff è attualmente il loro quarterback non ha detto molto praticamente dal modo in cui parlava sembrava quasi che pensasse adesso abbiamo un contratto un contratto abbastanza blindato con Goff se riusciamo a trovare un altro quarterback allora no Goff non sarà il nostro quarterback del futuro se riusciamo a darlo via per il momento però io non dico niente perché Goff sembra che rimarrà ho controllato ieri il suo contratto ha un contratto fino al 2025 e abbastanza blindato fino al 2023 quindi sembra che Goff stia qui per rimanere e quindi questo è da vedere un'ultima notizia Brandon Staley il defensive coordinator dei Rams è stato assunto come head coach dei Chargers e mi piace tanto l'idea di un defensive coordinator come head coach dei Chargers con Justin Herbert che è si è vero inesperto però con questo grande talento che ha e che è riuscito ad avere anche con Anthony Lynn perché credo che così si potrà creare una squadra di Chargers più completa comunque questa è un'altra cosa stiamo parlando di Rams Packers nel complesso i Packers sembra una squadra davvero con un attacco inarrestabile sono stati la prima squadra in tutto l'anno a fare più di 400 yard d'attacco sulla difesa dei Rams e sembra che sarà una partita davvero molto interessante contro i Bacanina la settimana prossima la aspetto più di Chiefs Bills onestamente quindi Aaron Rodgers sarà in casa e avrà Brady contro cui giocare partita bellissima secondo me due stili di quarterback molto diversi della stessa generazione bene questa è stata la mia analisi post partita e vi auguro una buona settimana noi ci vedremo venerdì con l'analisi pre partita per il nostro i nostri NFC e AFC Championship e AFC 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 AFC